eccoci qua lui si è già messo con la maglia adatta perché oggi stiamo per vedere è il dodicesimo film del DC Extended Universe tu li hai contati prima su wikipedia in macchina io è lui perché perché questo è ancora DC Extended Universe siamo al The Space di Rozzano per vedere Travatar a te la parola io tornerei a vedere anche Scream però invece Shazam Furia degli Dei però allora io il primo l'avevo apprezzato con i suoi limiti e non era così brutto per me era molto carino forse troppo lungo invece Travatar l'aveva proprio detestato quanto durava il primo Shazam già due ore qualcosa a me pare era lunghino sì ma allora io non gli ho mai voluto male al primo però avrei tanto voluto amarlo invece l'ho sempre trovato un po' squilibrato come tono io non mi stancherò mai di dirlo hanno preso lo spendo nelle lezione hanno fatto ancora più stupido almeno Tom Holland aveva l'ingelità da ragazzino qui proprio un coglione personaggio che comunque aveva un po' quel carisma poi mi erano piaciute le citazioni a Rocky a Philadelphia aveva qualcosa di carino non si capiva bene se volessero fare una roba comica perché poi all'improvviso rompeva il dramma la madre che risultava di riprenderselo delle degli omicidi vabbè ovviamente off screen però abbastanza terrificante ricordiamo che questo è uno dei rimasugli del DC Extended Universe dopo questo Blue Beetle Aquaman e poi Flash che poi dovremmo andare verso il nuovo universo di Gaglia però io da quel che so il nostro Michelone Innocenti l'ha visto me ne ha già parlato malissimo la voglia di vederlo non c'è anche io che ho apprezzato il primo quindi ragazzi io sono anestetizzato in sala quando inizierà mi dirò a due ore e dieci con due post credit due ore e dieci e cerchiamo di capire questo universo strampalato dove ci porterà quindi stiamo per entrare in sala in bagno magari sì magari no perché Black Adam ci ha distrutti un po' meglio ce lo possiamo volare ma io spero sia meglio anche di Ant-Man and the Wasp of Antomania però e ovviamente poi ce la rifaremo con l'uomo perché ha salvato anche questo quindi tu uomo che sapeva troppo sappi che ecco a dopo ragazzi ciao ciao eccoci dopo la visione di Shazam Furia ne sa più di loro due è la Furia stasera perché allora mi stai dicendo che noi non siamo dei cioè che è sta roba assolutamente sì voi siete dei dei bellissimi più belli del mondo è un film che secondo me farà discutere specialmente per la prima post credit ma non possiamo dire di più allora Matioschi insomma questo Shazam Furia degli dei ci avevo un po' creduto il primo tempo si salva per la simpatia a grandi linee e stavo dicendo vabbè il secondo per me è un disastro caduta rovinosa sì 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 perché fino a un certo punto potevo anche reggere ma ci sono delle scelte narrative un sacco dei cosiddetti plot device quindi soluzioni convenienti pieno di oggetti che a un certo punto non si sa bene cosa dovrebbero fare personaggi o situazioni che vengono risolti in un non nulla in maniera molto casuale Travatar tu cosa ne dici invece che la DC dovrebbe cambiare nome in Dino cioè Dino a tutti i progetti perché veramente allora premessa a me il primo film ha fatto cagare io sono qui veramente solo per questi due uomini cioè perché la per la compagnia perché partite con le ship chi sceglierà Matioschi tra me e Paolo e a parte questo si finisce con un orgia questo video tra noi tre sì sì assolutamente no scherzo dai ci fanno male piedi se no volentieri no ma questa no l'orgia è la seconda parte del video su holyfan sapriamo poi l'account no comunque io ci saprebbe degli iscritti comunque allora è un film confusionario con una messa in scena che al meglio è da mestierante e quindi non è sufficiente a tenere in piedi perché io dico sempre una bella regia salva una brutta trama ma deve essere una regia potente un minimo qui proprio da mestieranti ci sono problemi di tono lo diceva anche Matioschi durante l'intervallo un film che vuole essere cacciarono ogni tanto e rompono questi momenti seri che stonano tantissimo e se è cosa che sembra positiva quando la dirò hanno ascoltato le critiche al primo film perché questo film perché questo seguito vengono messi in luce alcuni difetti del film precedente ma non è che rimediano in maniera convincente quindi è abbastanza un disastro Lucy Liu e le mirre le la zag le new entry femminili tutte sprecate la zag le regge la futura biancaneve live action nonché la protagonista femminile di west high story di spilberg da attrice che dico a una grande promessa dopo questo film datemi una ascia che la decapito allora è più un'iperbole per per curare il ruolo però veramente non l'ho sopportata ci sono casini con la continuity che è già una grande continuity dalla dc il problema principale è che la trama sarebbe semplice ma giuro che io a un certo punto non capivo più nulla anche perché mettono un sacco di sottotrame di conflitti tra personaggi che non abbiamo mai vissuto e che vengono risolti con frasi di circostanza immaginate che io e paolo ci odiamo non sapete bene il perché il film inizia che ci stiamo sulle palle certo a un certo punto ci diciamo però sai paolo in effetti una trombata si potrebbe neanche fare basta è risolta è finita è il problema perché allora io vi dico la mia veloce perché tanto poi ci sarà la mia recensione in solitaria però è che che vi devo dire allora il primo tempo a me aveva fatto dire ci siamo per me il primo a differenza di travatare è un film dignitosissimo con i suoi limiti però mi piace questo secondo ha una scena anche action iniziale con una canzone che mi gasa ogni volta che l'ascolto fra l'altro ma non rivelo troppo e ho detto dai se continua così perché poi la trama era semplice quelle classiche trame semplici ma non raffazzonate il problema è che poi da una cosa così semplice come ha detto matioschi fuoriescono delle diramazioni e io ancora mi sto interrogando ma cos'è servita quella cosa più che altro il problema è che qui si ripercuote uno dei problemi che avevo riscontrato del primo film ovvero non ha un cazzo di senso finire il primo film di shazam già con la shazam family perché che cosa succede qui li devi tenere in scena perché sono la shazam family non possono più essere un compromesso ma più che altro che nel primo film a parte nel finale erano personaggi secondari quindi che non fossero sviluppatissime aveva senso qui siccome li devi sviluppare ci sono sei protagonisti non ce la fai a tenerli tutti in più ci sono tre cattive che devi sviluppare c'è troppa gente è il problema è uno dei problemi che ha stato che hanno avuto anche il secondo e il terzo ovvero troppi personaggi da gestire a me ancora quanto mania per me è un capolavoro è il primo cioè secondo carino ma niente di che meglio di questo quanto mania è per me è peggio almeno io mi sono sentito intrattenuto mi sono sentito intrattenuto il problema è che io con le sequenze action per te è peggio quanto mania è peggissimo conio il termine peggissimo cioè quanto mania è orribile devo pensare non lo so io ripeto questo è più carognito perché ti fa sul cazzo l'universo e quindi no no è che c'è ma l'avete visto anche voi c'è una scelta narrativa a un certo punto che per me è atroce ma vi dico una cosa è atroce rovina il film ma non sto scherzando lo rovina addirittura c'eravamo io e Paolo che pensavamo ma 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 sembrano indirizzati su una via coraggiosa ma sai che magari assolutamente dopo aver cazzeggiato per due ore alla fine ti lasciano con qualcosa e invece c'è una cazzata allora se quella scelta coraggiosa l'avessero portata a termine il film al netto dei difetti avrei detto ok sarebbe stato un film brutto ma interessante sì dai dai perché quando è finito io ho detto lo salvicchio poi sento parlare loro rifletto su certe cose anche io però a differenza vostra le scene d'azione a me in dei momenti hanno anche gasato il problema è che manca la parte a me è piaciuta l'ultima l'ultima mi anche a me il progettivo e non è malaccio allora noi stiamo riusciamo non devono ancora riprenderci dalla perfezione di avatar 2 e vabbè diciamo che comunque nella media di altri blockbuster dopo modoc qui il problema è la scrittura che è proprio talmente raffazzonata poi forzatamente sai qual è l'altro problema è che si vede proprio per dire anche nei suoi film peggiori la marvel ha una verve un minimo di sicurezza che ok l'adc è sempre quella che per me è un film mediocre e non è brutto però è medio più più mediocre che brutto però insomma non sia ecco io però un lato positivo l'ho trovato durante la scena discutibile io stavo guardando solo lui perché la sua espressione era bellissima proprio stava morendo dentro ce ne sono per me qua qualche scena però per il resto ma ma qualcosina che si può anche salvare ci sono tanti spunti però finiscono finiscono nulla di fatto sì sì poi cose che rispetto al primo film io mi chiedevo ma c'erano erano state presentate nel primo film diverse cose c'è una retcon che fa morire è bellissimo ma anche il mostrare dei luoghi che dovrebbero essere anche importanti ma a meno che il primo me lo sia proprio dimenticato non ne facevano riferimento questo posso dirlo perché nel trailer nella campagna marketing c'è il mago del primo film che torna in vita e i personaggi si stupiscono di ciò anche noi noi aspettavamo è tornati in vita diteci no attenzione non è un non te lo spiego perché un mistero da conservare per un terzo film che non vedremo mai è un non te lo spiego e comunque possiamo dirlo perché l'avete visto immagino che vi aspettiate una spiegazione non c'è comunque andatelo a vedere sapete cos'altro non c'è non c'è la scena del trailer ho tirato un pick up a un drago è vero vedi 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 zaccary levi insopportabile no invece a me lui mi piace però è se come attore non sarebbe neanche male però ricordo soprattutto come doppiatore perché però non si capisce perché come avete detto voi il baxter come si chiama billy batson per billy batson perché lui è così intrepido sicuro di sé poi invece quando si trasforma diventa un coglione a voi la risposta a voi la risposta il drago il cacola ora lo super cacola a questi livelli può essere comunque voi andateva a vedere non so quanto potrà fare al box office per me molto poco in sale eravamo paolo vi odia se vi siete andato a vedere no no andateva a vedere perché ripeto non è un filmaccio per me però poteva essere carino ed invece non lo è stato peccato vabbè vabbè ragazzi un saluto con la tromba e con l'imbuto travatar concludite con una massima la dc dovrebbe diventare di no ok vedi lui si ripete a cavaldonato a cavaldonato non si guarda in bocca perché c'è i raghi tra i denti e chi ha visto il film sa assolutamente sì ciao che confusione che c'è in casa warner tiriamo il dado e poi seguiamo la sorte sì perché voi potreste pensare vado a vedere shazam il protagonista è zachary libai no vi sbagliereste di grosso la vera protagonista di questo film è la signorina confusione e voi potreste dire ma come si fa a rendere confusionaria una storia in cui abbiamo le figlie di atlante che vogliono sfidare gli esseri umani chiedetelo a harry gaiden chiedetelo a chris morgan a chi ha sceneggiato questo film perché quando noi siamo usciti dalla sala ci facevamo tante di quelle domande che non avete idea eppure il film è talmente banale sotto tantissimi punti di vista che avremmo dovuto comprendere ogni minima cosa ma non è così partiamo dal presupposto che davide sandberg sia un regista che bene o male io ho sempre apprezzato con likes out aveva diretto un horror così trascurabile ma comunque non brutto non era all'altezza del cortometraggio mi aveva sorpreso con annabel 2 creation che invece era un buon seguito del film di leonetti così come mi aveva convinto con il primo shazam carino di intrattenimento coinvolgente poteva avere dei difetti sì ma non conoscendo il personaggio fumettistico diciamo che restai sorpreso scoprendolo sul grande schermo non è che avessi voglia di vedere questo seguito perché dopo gli annunci di gun sul nuovo universo di si nascente sapevamo che the flash shazam 2 aquaman 2 blue beetle sarebbero stati dei rimasugli in un calderone di un universo ormai morente che avrebbe dato vita ad un qualcosa di nuovo però dicevo magari riesci a coinvolgermi come il film del 2019 sarà divertente se poi non ci saranno sviluppi in futuro pazienza il primo tempo bene o male l'avrei salvato i difetti c'erano però mi divertivo c'erano delle belle sequenze d'azione e dicevo dai vediamo cosa avranno in mente per il secondo ed il terzo atto piccola parentesi il secondo atto non esiste passiamo dalla presentazione del problema alla risoluzione del problema ora non è evidente come nel bruttissimo x-men dark phoenix qual lo si sente forse di meno perché comunque l'azione è sempre l'assoluta protagonista e quindi le scene anche un po sopra le righe le scene con questi mostri le scene di combattimenti potrebbero intrattenere e coinvolgere senza far pensare subito al pubblico ma non c'è stato uno sviluppo di ciò che vediamo nel primo atto si passa dalla presentazione di quelli che dovrebbero essere gli antagonisti dei problemi di turno del film alla risoluzione magari uno non ci pensa subito però riflettendoci effettivamente il film si allunga inutilmente tralasciando uno sviluppo anche dei personaggi ci sono delle caratterizzazioni frenetiche dei momenti in cui i protagonisti gli antagonisti cambiano senza che ci sia il giusto e doveroso introspettivo approfondimento della loro reale situazione dei momenti ridicoli in cui con il mondo che sta andando in rovina per meglio dire filadelfia che c'è rochi nella statua che dice se non fate qualcosa voi scendo io in dei momenti in cui la città letteralmente messa a so quadro i protagonisti si soffermano a parlare con i propri cari perché ci deve essere il momento di affetto ma mentre la città sta venendo distrutta realmente da queste figlie di atlante voi vi mettete a scambiarvi baci abbracci cioè io non sono cattivo il film non è orribile come un black adam non è pessimo come un ant-man and the wasp quantumania è mediocre perché qualcosa di interessante qua e là lo troviamo anche a livello di messa in scena a me dispiace quasi doverlo bocciare perché effettivamente mi ha intrattenuto le scene d'azione specialmente una nel prologo su un ponte e quella dell'epilogo mi han saputo conquistare per questo mi fa rabbia doverlo bocciare per dei motivi stupidi dei motivi che avrebbero potuto risolvere con una sceneggiatura più intelligente che non creasse confusione nella mente del pubblico e con una maggiore introspezione della shazam family effettivamente ad un certo punto ho guardato matioschi e gli ho chiesto ma a cosa serve questa cosa ma questi luoghi che vengono presentati dove erano nel primo capitolo ma quel personaggio lì ma non dovrebbe essere morto ma ce la daranno una risposta no la prima scena post credit crea ancora più confusione ne parlerò nella parte spoiler ma è la ormai consolidata dimostrazione che la warner in campo di sì vuol continuare a portarsi appresso i cadaveri quindi li trascina avanti li trascina avanti per creare sempre più caos il caos è importante in questo film abbiamo il personaggio di ellen mirren che è una delle figlie di atlante abbiamo il personaggio di lucy liu per meglio dire sorella di ellen mirren che riesce a manipolare le menti delle persone dicendo loro scatena il caos scatena il caos ma per me l'ha detto anche agli sceneggiatori scatenate il caos scatenate il caos ed infatti c'è un caos in questa sceneggiatura fra mele che a cosa servono le mele fra alberi della vita ma cos'è avatar fra questo fra quell'altro eppure ci sono dei momenti in cui anche c'è una sorta di matrix che prende il sopravvento di regno quasi specchio alla new way home in cui la città la inception si plasma in certi modi insomma non voglio dirvi troppo però ci sono dei momenti belli in shazam furia degli dèi il problema è che ci sono talmente tante banalità che è difficile passare soprattutto dopo la visione io ammetto che dicevo vabbè dai carino poi ci rifletto poi inizio a parlarne con matios che travatare e dico carino però c'è questa cosa che scricchiola vabbè dai la sufficienza gliela do lo stesso passano cinque minuti però c'è anche quest'altra cosa che scricchiola vabbè dai la sufficienza dai forse no e ho iniziato a mettere in fila tutte le cose che non torrano voi mi potreste dire paolo ma è un film di supereroe cosa ti aspetti e non è vero perché non vuol dire che se si tratta di un qualcosa di fantasy non ci possa essere la decenza di voler approfondire in modo sensato una determinata storia proprio per rispetto anche al genere supereroistico rivediamo i protagonisti rivediamo zachary levii rivediamo escere angel rivediamo jack dylan grazer rivediamo adam brody attori che comunque riescono anche a interpretare bene le loro controparti supereroistiche mi ha fatto piacerissimo vedere rachel zagler che è un'attrice che adoro dai tempi di west side story di spilberg attendendo di vederla in biancaneve c'è Lucy Liu c'è Helen Mirren gli effetti visivi sono ben realizzati la cgi è veramente fatta bene per questo dico anche che le scene con i mostri come proprio nel primo capitolo riescono a colpire il problema è che il tutto non è sorretto da una sceneggiatura convincente il fatto che poi manchi tutta la parte centrale è un grave difetto perché sai ci fosse stata la sceneggiatura problematica ma una regia sempre attenta una regia degna di nota ci fosse stato a livello produttivo ed editoriale qualcosa di intelligente di geniale anche spider man no way home ha una sceneggiatura piena di problemi ma io lo salvo quel film perché a livello produttivo ed editoriale è una lettera d'amore nei confronti di spider man incredibile per la prima volta nella storia del cinema supereroistico in live action si sono riuniti tre personaggi che hanno interpretato spider man tre generazioni dell'uomo ragno in un unico film quindi la sceneggiatura potrà avere dei problemi ma a me piace vedere tutto il complesso john watts ha fatto un qualcosa di decente perché anche la regia non è che sempre convinca però qualcosa di dignitoso a livello editoriale c'è grande genialità produttiva e quindi il film lo salvo lo considero un buon prodotto poi lo so che c'è chi guarda esclusivamente la sceneggiatura come se in un film esistesse solo quella no infatti io anche in shazam furia degli dèi riscontro dei problemi ma a livello registico di messa in scena il tutto è anche realizzato con criterio però ripeto non basta a salvare un film a cui darei un 5 perché ripeto i problemi purtroppo non solo solo non sono solo inerenti ad una scrittura raffazzonata ma anche alla mancanza di introspezione dei personaggi questi cambiano a livello di caratterizzazione da un secondo ad un altro manca tutta la parte centrale quindi anche volendo essere buono non si arriva ad una sufficienza e mi dispiace le musiche sono di christoph beck e devo dire che facciano il proprio lavoro in modo dignitoso anche a livello di montaggio e fotografia niente da dire però il film è talmente confusionario che lascia il tempo che trova peccato io adesso passerò ad una parte spoiler per dirvi più nello specifico cosa ne penso fatemi sapere la vostra riguardo al box office è partito malissimo non ha guadagnato nemmeno 90 mila euro in italia il primo esordì fra i 200 e i 300 se non ricordo male esordì il primo ce l'ho scritto qua pensate che praticamente il primo shazam debuttava con 206 mila euro questo ha esordito con 84 mila euro quindi sarà un flop totale il passaparola non sarà certo positivo però lo si sapeva con questo rimasuglio del dc extended universe vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana dunque 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 intanto abbiamo le figlie di atlante quindi questi dei queste idee che si vogliono scontrare con gli esseri umani perché anni prima c'è stata una guerra visto che gli dei consideravano gli esseri umani degli schiavi gli umani si sono ribellati e c'è stata una guerra ma scusate ma nella snyder cut cioè ma gli umani non si erano alleati con gli dei per fronteggiare dark side ok voi mi potreste dire ma la snyder cut non è da tenere in considerazione però si crea parecchia confusione perché comunque anche in justice league si parlava di quella di widon di unione fra umani e dei perché a un certo punto entrate a gamba tesa con questa rivalità vabbè diciamo che si può andare oltre a questo dicevamo ok anche io tra avatar matioschi ok passiamo oltre il problema è che è scontato che rachel zagler sia in realtà un antagonista però fortunatamente il film non ti vuol giocare su questo aspetto regalandoti un colpo di scena sul finale ma nel giro di poco ti fa capire che in realtà sia una delle figlie di atlante meno male perché era talmente scontato e prevedibile che avrei detto ok è veramente il pubblico avrebbe dovuto dire wow solo che anch'essa da cattiva poi torna ad essere buona in uno schiocco di dita ma caspita fatemi vedere che si rende conto di quello che le sue sorelle stiano facendo e che quindi lei ad un certo punto dica ma sai cosa io voglio aiutare freddi e la shazam family no da un momento all'altro roba che se esci un attimo a fare la pipì e rientri in sala lei è già cambiata e non ti sai spiegare il perché non c'è uno sviluppo a livello di caratterizzazione a schiaffo lei è in un modo lei diventa in un altro modo non c'è voglia di approfondire i personaggi però siccome in sceneggiatura c'è scritto deve diventare buona ma sì senza la minima introspezione senza la minima voglia di approfondire facciamola cambiare così come in sceneggiatura c'è scritto il nostro protagonista billy deve trovare deve trovare un po di sintonia con quella che non riesce nemmeno a chiamare madre con sua madre adottiva e quindi mentre philadelphia è invasa da questi mostri e sta per essere rasa al suolo lui si mette lì con tutta la shazam family a vedere si mette a parlare con lei si abbracciano piangono ragazzi ma c'è gente che sta morendo io lo capisco che in sceneggiatura c'è scritto deve ritrovare il rapporto con la madre ma sviluppatemelo in un altro modo nella parte centrale del film ancora prima dell'avvento del drago che è realizzato benissimo il drago mi è piaciuto tanto prima dell'avvento del drago che distrugge tutto con lucy new che lo cavalca con l'apparente morte di ellen mirren prima di questo basami un po di film sull'aspetto della famiglia visto che vuoi parlarmi di cambiamenti nella parte centrale giocami sullo scontro fra rachel zagler e le due sorelle giocami sull'avvicinamento di billy con la madre ed invece tutto questo non accade non accade mai billy butson ad un certo punto deve provare del bene per lei e quindi lo si fa quando quando la città sta per essere distrutta poi il film è praticamente a un epilogo di quasi un'ora perché c'è questo combattimento per quanto realizzato bene alcune scene di più altre di meno un'ora così e sul finale ho detto caspita hanno avuto coraggio di far morire il protagonista che si è sacrificato è molto bella la scena di lui in questa sfera no che va a richiudere che va a richiudersi su di lui e sul drago con lucy new è molto bella questa scena finale dove anche una re di viva ma ormai morente ellen mirren da una mano c'è questo scontro con il drago che sputa fuoco blu tu dici è morto si è sacrificato c'è una scena anche quasi emozionante ed invece torna aladino lì a kinetor come si chiama quello di never back down insomma il mago il mago shazam che dice la magia è svanita è finita sulla tomba del povero billy seppellito servirebbe che qualcuno potesse risvegliarli arriva wonder woman e ci mancherebbe lo sapete io amo i personaggi come wonder woman batman di ben affleck mi piace l'operato di snyder mi sono piaciuti due film di wonder woman sia il primo sia il tanto criticato secondo perché al netto dei difetti che possono esserci per me sono decisamente sottovalutati quei due film soprattutto il secondo è molto sottovalutato però tu hai la possibilità di avere wonder woman nel film e veramente utilizzi un personaggio così importante per risvegliare il protagonista morto cioè è come se in un film degli avengers immaginatevi iron man 3 negli ultimi cinque minuti apparisse dal nulla tor per aiutare tony stark voi direste ma come ma perché per quale motivo cioè tu utilizzi wonder woman per farla scendere dal cielo ad un certo punto e far sì che risvegli il protagonista a parte con questi protagonisti che dovrebbero essere morti e che invece non sono morti mi sarei anche stufato perché veramente cioè quante volte con superman mi sta bene però basta dopo un pochino basta c'è sempre questa falsa scusa succede ma poi non succede basta e ripeto avevi la possibilità di avere gal gadon nel cast ma presentala già a metà fai sì che come in batman v superman dove intelligentemente zack snyder non l'ha fatta vedere solo negli ultimi tre minuti ma l'ha fatta combattere fai sì che anche qua appaia prima chiedete aiuto a lei lei appare a metà e partecipa alla battaglia finale sarebbe stato anche più intelligente allora mostrare un finale in cui lei riesce a riplasmare la magia senza a quel punto far vedere un billy butson morente non serviva a niente però fammela apparire prima in scena perché per quanto mi abbia fatto piacere di vederle per quanto vorrei vedere un wonder woman 3 lo sapete quanto io apprezzerei una continuazione dell'universo di snyder di patty jenkins lo so sono una pecora nera in questo però a questo punto fammela vedere in scena prima no alla fine alla fine da ultimo e per forza perché perché bisogna risvegliare il protagonista e quindi appare gal gadot e quindi appare wonder woman quante volte avremmo avuto bisogno di supereroi per aiutare i singoli personaggi nei loro film stand alone eppure è un compromesso è un patto che facciamo con questi film lo sappiamo che ogni pellicola non può essere un avengers non può essere un justice league qua invece siccome il protagonista non poteva morire appare wonder woman ma anche il budellaccio delle vostre madri a un certo punto l'ho trovato proprio un cameo fine a se stesso inutile per quanto io quel personaggio lo apprezzi tantissimo però boh e poi c'è questa prima scena post credit a parte arriva alla fine il mago shazam vestito di tutto punto che pare di calloran prima di andare all'overlook hotel e poi c'è la prima scena post credit in cui vediamo i personaggi di peacemaker era una scena totalmente evitabile perché il finale di shazam 2 non lo potevi togliere era per forza così quindi wonder woman la dovevi far vedere che poi cameo spoilerato da settimane perché hanno fatto gli annunci su facebook quindi nemmeno l'effetto wow prima post credit appare emilia harcourt e l'altro appaiono loro come è che si chiamava me lo sono anche scritto e john economos che vanno per la justice society of america a reclutare shazam e c'è lì zachary levi tutta allegro e sorridente che pensa di partecipare di essere stato scelto nella justice league invece la justice society quella che abbiamo visto nell'orribile black adam ragazzi ma quella post credit poteva essere totalmente evitabile ma quale sarà il futuro della dc se continuate a trascinare i cadaveri ma per quale motivo l'avete lasciata quella scena c'è ora noi ci dovremmo aspettare quindi che in futuro questa cosa venga trattata ma io sono convinto che con la seconda stagione di peacemaker non si farà mai riferimento a shazam cioè siccome questa a differenza dell'epilogo di shazam 2 la potevi togliere perché l'hai lasciata cioè nel pubblico crei solo confusione a meno che come si sospettava da tempo il nuovo universo di gun non è vero che resetti tutto ma lì torniamo su argomenti già aperti e su cui non mi va di ribattere nuovamente la seconda scena post credit vabbè ritroviamo il tizio del primo mark strong che parla con quel pene di 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 flick di a bug's life e vabbè anche lì non porta niente però la prima è proprio problematica quindi boh questo è il mio parere al riguardo ripeto ci sono delle scene belle i need a hero la scena sul ponte è molto bella ma forse è stato un film minimamente intelligente cioè io non ho capito mille cose innanzitutto e spezza il bastone rimetti il bastone e leva le gambe rimetti le gambe sembrava verdone in bianco rossa e verdone quindi hai spezzato il bastone quindi va via questa questa barriera protettiva che ci difendeva che ci teneva protetti dal regno di atlante che poi anche questi regni questa enorme potteriana grotta con queste porte che vengono estrapolate da monster e co che portano in altri regni ma questo quando si era mai visto nel primo film ma tutta quella scopiazzatura di harry potter con il diario di tom riddle che si scrive da solo ma per quale motivo cioè ma sembra quasi che abbiano voluto fare un altro film senza tenere in considerazione il precedente ma un minimo di background un minimo di spiegazione comunque non che volessi una spiegazione sulla penna che scrive da sola ma su questo su questi regni c'era io magari me lo sono dimenticato io perché l'ho visto due volte ma mi sono perso dei passaggi con il passare del tempo mi sono dimenticato non lo so questa ma cosa serviva la mela io non ho capito a cosa serviva la mela a cacciarla nel sedere al drago a un certo punto non ho capito a cosa serviva quella mela e prendi la mela e leva la mela e piglia le gambe rimetti le gambe cioè veramente ragazzi non l'ho capito ma poi questa questa sfera no che va a richiudersi che va ad aprirsi cioè c'è anche l'ambulanza che mi sta venendo a prendere ma cioè alla fine le figlie di atlante si volevano vendicare sull'essere umano e distruggere tutto e poi boh perché con gli esseri umani non lo so veramente tante cose non l'ho capito sono un insieme di situazioni buttate lì cose a caso semplicemente avessero dato una degna motivazione al fatto che le idee si volessero vendicare sugli esseri umani avrei detto ok ma anche una spiegazione stupida mandatemela qua è talmente tutto un aggiunger roba senza una cognizione di causa che ho detto boh poi ci sarà sicuramente chi nei commenti mi dirà no tu paolo non hai capito perché torna tutto bene vi aspetto fatemelo capire perché effettivamente io sono rimasto alquanto titubante e ripeto manca totalmente la parte centrale poi continui riferimenti alla cultura pop una volta ok due ok addirittura fast and furious citato di fronte a elen mirren va bene però e niente questo è il mio parere al riguardo però c'è gal gadot e c'è rachel zagler che per altre ragioni sono sempre belle da vedere però a livello di storia siamo messi maluccio quindi un film mediocre un film da 5 niente di orribile però magari lo rivedrei anche volentieri mi dispiace tantissimo vociarlo ma non ci siamo fatemi sapere ragazzi io vi abbraccio vi saluto e ci vediamo ad una prossima recensione